Bentornato su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale. Grazie di cuore. In Mermeloni c'è il tema dei soldi. I soldi però si trovano per le armi, per mandare le armi in Ucraina. I soldi ci sono sempre. Poi tra l'altro pare che ammontino all'incirca quelle che dovrebbero essere una riforma completa delle pensioni, quindi insomma non è neanche poca cosa. Poi c'è questa vicenda del sindacato cosiddetto concertativo. È un po' un gioco delle parti. Arrivano lì, c'è Landini che fa l'incendiario. Vorrei, ma non posso. Poi c'è Sbarra che dice no, dobbiamo essere seri, trattati. In realtà ottengono solo una cosa, la convocazione a questo tavolo, che consente loro di dire siamo rappresentativi. Poi uno dice ma cosa dovrebbero fare? Sentivo il giornalista specchio. Beh dovrebbero fare come i sindacati in Francia. Semplicemente. È talmente semplice, palese. Basta guardare. Se le cose che dice Landini sono vere, se ci crede davvero, deve fare come in Francia. In Francia hanno aumentato di due anni l'età pensionabile, da 62 a 64. Noi in Italia siamo a 67 anni e la CGL ha fatto quattro ore di sciopero quando hanno fatto la legge Fornero. Quattro ore di sciopero. In Francia ci tengono a quei risultati, ci tengono a quegli obiettivi. I sindacati fanno quello in Francia. I sindacati in Italia. Poi io non so se è vera quella telefonata dove si dice che pagano le 20 euro. Venite, vi diamo la pettorina, la restituite, vi diamo un buono da 20 euro per riempire le piazze. È una cosa vergognosa. Di Vittorio, che è il grande leader della CGL, che ha costruito un sindacato conflittuale di classe, si chiamava così, che ha ottenuto grandi risultati. Questi sindacati servono solo ai sindacalisti, non ai lavoratori. Poi nel servizio di prima ho visto anche un po' di politica. L'ultima settimana ho guardato dei dati. I morti sul lavoro, nell'ultima settimana di maggio, sono 32. Tutti parlano di questi morti sul lavoro. Nessuno fa nulla. Non fa nulla il governo, non fa nulla il sindacato, che dovrebbe essere quello che fa le battaglie. Non fanno nulla le imprese. Ci andrebbe una cultura, quindi formazioni, investimenti, controlli. Non si fa nulla. Continua a morire l'agente. Muoiono anche quelli delle forze dell'ordine. Ci sono stati tre suicidi nell'ultima settimana di agenti. Dall'inizio dell'anno, siamo neanche a metà anno, ci sono stati 20 suicidi di agenti di polizie carabiniere. Lo sapete? Lo dite? Questo è un grave problema. Questo è il nostro paese. È un paese allo sbando, dove la politica fa anche un po' ridere. Ho letto questa intervista.